Ben trovati, da un po' di giorni che mi si ferma per strada e mi si dice, oltre all'Imu c'è stata anche la rivalutazione delle rendite catastali, sono arrivate delle notifiche, dobbiamo pagare sempre più soldi, parlo del Comune di Lecce ma credo che questo sia caratterizzante anche altre amministrazioni. Vi farò sapere da qui a qualche giorno se noi cittadini possiamo tutelarci anche dal fatto che dobbiamo sborsare tanti soldi partendo addirittura dal 2008. E qualcuno potrebbe dirmi non è colpa nostra, è colpa del governo Monti, ma a noi non ci preoccupa più una frase del genere. Allora voi sindaci dovreste fare una rivoluzione e opporvi invece di accettare sempre supinamente a danno dei cittadini e voi primi cittadini mi direte che questa è la solita demagogia. Io sto aspettando dei pareri giuridici e tecnici e poi li suggerirò a tutti coloro, circa il 60% delle popolazioni del Salento tra Lecce, Brindisi e Taranto che stanno subendo questa ulteriore batosta proprio in questi ultimi giorni del 2012. Mentre loro, loro, coloro che contano, coloro che ci dovrebbero ben rappresentare, fanno a gara per vedere chi è più lo scodinzolatore di turno e cercare di garantirsi nuovamente la poltroncina alla Camera o al Senato. E questo succede nel centrodestra perché ancora non si comprende se vi saranno o meno le primarie, ma il loro capo maggiore Berlusconi subisce la batosta di dover pagare 100 mila euro al giorno alla ex moglie, ossia 3 milioni di euro al mese per vivere quella povera Veronica e il PDL ancora non sa dove andare, chi proporre come futuri parlamentari e non c'è mai una volta che qualcuno dica, spallata, cosa hanno fatto in questi anni i nostri colleghi parlamentari, parlo dei leader logicamente che dovrebbero fare questa riflessione, spazio ai territori, spazio a chi ha dato posti di lavoro, spazio a chi si è impegnato per la crescita del Salento, di Lecce, di Brindisi e di Taranto e non ulteriore spazio a notabili che nulla hanno fatto, a parenti illustri o a amici molto affini alle logiche della fedeltà. Dall'altra parte invece tra domani e dopodomani sceglieranno dal territorio coloro che dovranno sedere in Parlamento e parlo del centro-sinistra che in primis il PD e SEL andrà ad individuare attraverso primarie coloro che dovranno essere messi in lista con la speranza di essere certamente nominati nel futuro Parlamento. Queste primarie a me non piacciono, primo perché i numeri sono già bene o male definiti e scaturiscono dal primo turno di primarie per la scelta di Bersani. Non si è aperto realmente alla società, ma queste sono logiche interne di ogni aggregazione, di ogni partito che liberamente può scegliere nel bene o nel male. Ma l'aspetto secondo me più degradante di queste primarie è che a livello nazionale il PD ha mandato dei propri notabili sui vari territori. Tra Lecce, Brindisi e Taranto spicca nel capoluogo ionico la presenza della senatrice Finocchiaro. Che logica è questa? Nel senso che non solo non è una pugliese, non solo non è stata mai nel Salento, non solo non ricordo che abbia fatto una battaglia per i cittadini di Taranto. Per quale motivo i dirigenti del PD Tarantino e del Salento non si sono opposti a questa intromissione? A saperlo avrebbe detto qualcuno. Perché se le primarie devono esprimere un giudizio positivo per gli uscenti o negativo, o è un giudizio positivo o negativo per gli entranti, ossia per i nuovi candidati, per quale motivo la Finocchiaro deve essere bocciata o promossa su un territorio che non è di sua competenza, che non è di suo impegno politico? Dovrebbero mandarle in Sicilia, lì dove i suoi conterranei potrebbero dire ha fatto bene per questa regione, per questa circoscrizione o ha sbagliato. I pugliesi e i tarantini potranno semplicemente accettare il diktat del centralismo democratico che fu del PC e che mi sembra appartenere ancora a qualche dirigente dell'attuale Partito Democratico, ma non giudicarla su come ha rappresentato il Salento e il territorio. Assolutamente no. Ecco perché non credo a queste primarie ed ecco perché non credo alla rivoluzione che potrebbe esserci nel popolo delle libertà. Perché da ciò che comprendo si stanno soltanto facendo i conti per come poter congedare chi ha rappresentato bene o male il Salento, Lecce, Brindisi e Taranto in molti anni di attività parlamentare e non invece spendersi per utilizzare risorse che hanno consolidato questo territorio, mentre altri lo hanno soltanto impoverito in quanto hanno preso 11.500 Euro al mese, ma non ricordo, anzi non ho ricordo che qualche parlamentare di questa seconda Repubblica abbia realmente determinato un passo in avanti e un'energia nelle famiglie del Salento con soddisfazione e nuovi posti di lavoro. E qualcuno mi dirà, eh sì, mica, permettetemi questo linguaggio nazionalpopolare, dobbiamo essere noi a cercare e a creare posti di lavoro. E chi? Gli imprenditori? Certo, gli imprenditori che malgrado la crisi stanno tentando in tutti i modi di combatterla, mantenendo i posti di lavoro. Ecco perché dovrebbero avere uno sguardo differente. Questi come tante altre categorie sociali che si battono per una serenità dei popoli contro la serenità dei pochi, cioè degli uscenti. Arrivederci.